Iniziamo subito con delle ospiti. Abbiamo subito aperto e inaugurato la puntata con una sequenza di ospiti che ci terranno compagnia. Io do quindi il benvenuto ad Irene Cogno e a Simona Bellione del Corretto Valdese di Torrepellice che sono con noi. Ciao, ciao Irene, ciao Simona. Le abbiamo invitate perché proprio ieri sera il Corretto è stato protagonista, come già lo era stato in serate precedenti, ma ieri hanno fatto ben due momenti di spettacolo, di questo nuovo spettacolo che hanno realizzato dal titolo Maestrine. È uno spettacolo pensato in modo particolare quest'anno per gli 850 anni dall'inizio del Movimento Valdese. È uno spettacolo che parla di sfide perché racconta la vita, le scelte di queste giovani donne che un secolo e mezzo fa, due secoli fa, insomma, prendevano di propria iniziativa il coraggio di partire dal luogo in cui erano nate e cresciute e di andare invece ad insegnare in zone forse un po' più svantaggiate dell'Italia, abbinando alla scelta dell'insegnamento anche una scelta di evangelizzazione. Chi ha fatto il lavoro di scartabellare i documenti? Perché immagino abbiate studiato prima di realizzare questo spettacolo che tra l'altro è andato anche a Riesi. Adesso poi racconteremo anche la trasferta. Simona, sei stata tua ad andare a cercare documenti. C'è il nome della nostra elettrice che sempre... Lei vanta... Cristina Pretto che salutiamo. Vanta di avere tanti talenti nel corretto, ma lei è una di questi perché è stata la scintilla, no? L'iniziativa è partita da lei, quindi pensando a qualcosa per gli 850 e su invito di Irene ad andarla a trovare a Riesi ci siamo un po' rifatti. Ah beh, andiamo a trovare Irene, una maestrina anche lei dei giorni nostri a Riesi e perché non parlare delle maestre che da qui dalle valli ma non solo partivano appunto come dicevi tu per andare, soprattutto per spirito di servizio andare a fare questo lavoro in tutta Italia e anche al sud in un posto svantaggiato e isolato come poteva essere la Riesi dell'epoca dove si arrivava su un cavallo, con un calesse insomma era anche difficile da raggiungere. Certo, il tema dell'istruzione era la base diciamo dell'intento di queste maestrine che non solo diciamo si ponevano a servizio di comunità ma nel frattempo loro stessi vivevano un'esperienza importante a volte non neanche tanto fortunata come mi raccontavi fuori onda assolutamente no, non fortunata una di queste due maestre alla quale in particolare ci siamo ispirate abbiamo o letto i loro carteggi in particolare appunto si ammalò di tifo lo diciamo nel nostro racconto e devo svelare che lei non tornò più a Riesi lo svelo qui ma nel racconto questo non è detto perché poi abbiamo voluto fare di questa figura fittizia diciamo un'espressione un po' più variegata di altre figure di maestre che erano partite comunque lei di fatto una delle autentiche maestre non tornò proprio dopo il tifo perché preferiva stare a casa vicino ai suoi genitori era anche molto giovane ovviamente sola quindi lei preferiva questo che si chiamava? allora l'autentica era Giovanna Rostan di cui dico anche che non abbiamo trovato dati biografici una biografia in archivio della tavola magari sarebbe bello a questo punto approfondire è stata anche una ricerca molto rapida perché ci siamo mossi all'interno di uno spazio di un mese per preparare il tutto quindi devo dire siamo stati però ringrazio infatti Gabriella Ballesio e Simone Baral che ci hanno dato una mano e la mia collega Lisa Bellion che mi ha accompagnata in archivio io non ero mai stata in archivio e quindi una di queste è Giovanna Rostan e l'altra invece è Teresa Banchetti che è stata citata anche da Gabriella Rustici proprio ieri sera nella presentazione del nostro spettacolo diciamo che poi la narrazione è praticamente composta quasi da parole esclusive delle lettere perché lettere che inviavano chi? Ai familiari? ah no, non ai familiari le inviavano al comitato di evangelizzazione nella persona proprio del presidente Matteo Procce quindi all'ente diciamo all'ente ufficiale l'ente ufficiale che gestiva questo loro rapporto esattamente infatti i toni sono abbastanza formali ma non troppo e devo anche dire che abbiamo dato un'occhiata ai copialettere di Matteo Procce stesso quindi le risposte che lui dava a Giovanna o ad altre maestre e lui era anche abbastanza duro perché imponeva proprio lui stesso dei toni insomma piuttosto rigidi e soprattutto lui voleva informazioni precise dati precisi da loro descrizioni precise dell'andamento dell'attività scolastica e della scuola domenicale che queste maestre tenevano la domenica il fatto è che lui naturalmente doveva raccogliere dei denari dai benefattori esteri come sappiamo il fatto è che non sempre le notizie erano positive come è emerso poi nel testo del nostro spettacolo anzi proprio inizialmente ho fatto leggere una bozza a Irene e i toni erano proprio un po' negativi ho dovuto andare a spulciare veramente tutto quanto l'intero carteggio per essere più sicura, più tranquilla e di aver trovato tutto quello che di luminoso ci poteva essere esperienze difficili lontani da casa, giovanissime, donne stiamo parlando insomma del 1800 e quindi poi da nord a sud come sappiamo e in quel periodo soprattutto era un altro mondo era il mondo della superstizione del sentimento di vendetta nei bambini che loro presumevano maturarsi appunto nelle famiglie stesse e le maestre volevano eradicare questo quindi era una sfida totale per loro dal nord a sud anche per te Irene che in effetti sei maestra e hai scelto non nell'ottocento ma adesso ovviamente nei giorni nostri di dedicare insomma il tuo servizio il tuo impegno di maestra a Riesi al servizio cristiano di Riesi quando hai maturata questa scelta perché? insomma come nasce un po' la tua vicenda che si lega a questo percorso tu sei stata, sei ancora membro del Corretto anche se ovviamente a distanza è un po' più difficile esserlo però sei parte di questa grande famiglia del Corretto Valdese sì esatto infatti ringrazio in realtà perché nonostante la distanza quando ci sono degli eventi, delle occasioni posso tornare e continuare e cantare per quelle occasioni per esempio come è stato per i 50 anni del Corretto e come è stato per questa occasione che infatti il Corretto è venuto a Riesi e così ho potuto cantare con loro e anche ieri nei due spettacoli che abbiamo fatto qui a Torre dunque io sono andata a Riesi per la prima volta non conoscendo bene il servizio cristiano ne avevo sentito parlare al sinodo negli anni prima in cui ero stata deputata per la chiesa di Torre Pellice e avevo finito nel 2017 il lavoro come animatrice giovanile del primo distretto e quindi avevo deciso di prendermi qualche mese per fare volontariato al servizio cristiano per cui ho detto va bene parto a novembre del 2017 sto qualche mese poi torno e insomma vediamo com'è continuare e in realtà adesso siamo nel 2024 e io mi trovo tuttora a Riesi il volontariato intanto si è trasformato si è trasformato in lavoro infatti si da dal 2019 dall'autunno del 2019 è partito e si è aperto il progetto del micronido all'interno del servizio cristiano e delle scuole del servizio cristiano quindi oltre alla scuola primaria e alla scuola infanzia che erano già da tempo avviate si è avviato anche questo nuovo progetto per la fascia di età dei più piccoli che continua molto bene e quindi sono rimasta piacevolmente in Sicilia che è una terra che veramente invece mi ha colto molto bene e anche il lavoro che faccio mi piace tanto devo dire anche le maestre dicono di essere state accolte molto bene le maestrine quelle a cui vi siete ispirate dalla fine del 1800 le secoli passati l'accoglienza era sempre positiva l'accoglienza era sempre buona poi bisognava andare un po' a mettere alcune cose a posto ma poi per il resto per il resto per il resto sono andate avanti invece tornando all'esperienza di Irene cosa ti ha fatto risuonare questo spettacolo che il Corretto ha preparato che in parte ha dedicato insomma la tua esperienza sì è stato anche molto emozionante perché veramente ripensando ai miei primi mesi ariesi come sono arrivata mi sono ritrovata in alcuni passaggi questo sì perché nonostante i tempi siano altri però alcune dinamiche le ho ritrovate ecco invece ovviamente poi col tempo conosco molto meglio adesso tutto il paese le persone e quindi ormai è una casa tua sì 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 in programma a parte le due serate appunto le due repliche ieri sera che hanno visto praticamente il tutto esaurito avete so che in programma ci sono non solo altre repliche in zona nel Pinerolese ma avete già avuto anche degli inviti per spostarvi un po' in altre chiese comunità questa è una bella cosa sì 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 esatto sì per ora il 15 settembre nel pomeriggio ora non ricordo l'orario mi sfugge ma vi informeremo sui nostri canali ovviamente e alla scuoletta dei Simunt quindi un proprio andiamo sul campo questa volta nel nostro 1800 fortunato per l'istruzione e proporremo lì le nostre maestrine dopodiché abbiamo già avuto un invito per andare a Udine dalla nostra ovviamente su spunto della nostra una delle nostre prime direttrici del Corretto Dorina che ci ha invitato a raggiungerla andare a visitare le sue zone a est e perché no presentare maestrine anche là bene e quindi insomma se qualcuno fosse interessato non ha che rivolgersi al Corretto Valdese così come anche come voci ci si può tranquillamente inserire anzi sarete ovviamente ben accolti maestrine quindi questo spettacolo questo lavoro che il Corretto Valdese ha preparato in occasione degli 850 anni del Movimento Valdese io ringrazio Simona e Irene Simona Beglione e Irene Cogno che sono state con noi buon ritorno a Irene in Sicilia a Riesi salutaci il servizio cristiano e tutti coloro che ci lavorano e buon lavoro anche a te Simona grazie nei tuoi impegni qua alle chiese alle valli nuove sfide con il precatechismo ci attendono per la storia grazie grazie ad entrambe buona continuazione e noi lasciamo spazio alla musica grazie a tutti